ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sta per arrivare natale e volevo preparare un qualcosa di diverso proprio per questo ho deciso non solo di dare un tocco di natale anche nella mia stanza ma voglio anche festeggiare il natale insieme a voi sapete benissimo quanto questo canale sta crescendo e quanto ci tengo veramente tanto e per questo ho deciso che il giorno 24 dicembre o il 23 ma comunque ancora lo decideremo poi nel dettaglio nei prossimi giorni ma vorrei fare il 24 mattina appunto potremo passare la mattina in una live dove all'interno della live oltre che farci gli auguri di natale vado a provare i vostri videogiochi e per videogiochi intendo i vostri progetti natalizi infatti in descrizione trovate un indirizzo email dove potete mandarmi meme videogiochi assets musicali qualsiasi cosa preferite ma ovviamente che riguardano il natale non ci sarà ovviamente né un vincitore è soltanto una cosa per raggrupparci tutti insieme e fare un qualcosa di veramente bello quindi non solo poi ci vedremo in live possiamo farci gli auguri a vicenda parlare così via ma posso anche valutare i vostri progetti anche in diretta in live e vedere appunto dove migliorarli potete mandarmi qualsiasi cosa se volete mandarmi dei videogiochi natalizi mi raccomando caricate su itc perché se sono file ex o file in apk devo andare poi a controllare il live se hanno virus o cose varie perché comunque col computer ci lavoro e non si sa mai quindi ragazzi voglio fare quest'evento fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e in descrizione trovate anche dei link interessanti dove poter trovare degli assets gratuiti e anche a pagamento per realizzare videogiochi natalizi quindi trovate link interessanti sotto in descrizione ovviamente se avete anche voi dei punti di riferimento o degli assets che non ci sono in descrizione fatemelo sapere con un commento in basso che poi ovviamente metto quel commento in evidenza in modo tale che le altre persone possano vederlo quindi ragazzi vi aspetto il 24 almeno che non ci sono cambiamenti ma voglio fare il 24 mandatemi tutti i vostri videogiochi faremo appunto un evento in live quindi speciale con tutti gli iscritti dove passiamo un bel momento insieme speriamo che la connessione vada bene ma cercherò appunto di sistemarla nei prossimi giorni spero anche che la mia stanzetta in questo modo vi piaccia anche se non so posizionare bene le luci quindi non si vede il bello di quest'albero che è illuminato quindi ragazzi fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto di quest'evento mandatemi tutto quello che volete grafiche musiche videogiochi tutto quello che volete basta che ovviamente quel progetto rappresenti il natale potete mandarmi anche fan art tutto quello che volete a proposito di fan art vediamo un po' se riesco a trovare anche uno spazio qui nella mia stanza dove posizionare anche i vostri lavori mi piacerebbe veramente tanto mi ricordo anche big buck quando per i mille iscritti appunto mi ha fatto questo lavoro che ancora lo devo andare a stampare e vedere appunto dove metterlo quindi ragazzi spero che questo progetto vi piaccia mi raccomando potete mandarmi giochi fatti con scratch construct unity a real qualsiasi cosa basta che ovviamente rispettate tutto quello che trovate in descrizione quindi l'oggetto delle mail e poi all'interno della mail potete mettere tutto quello che volete ovviamente se mi date maggiori informazioni poi live possiamo andare anche a rispondere a quelle persone che magari potrebbero chiedermi bello quel gioco con che engine è stato fatto quindi ovviamente più cose mettete in descrizione meglio è quindi fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate di questo progetto ci aggiorniamo anche sul discord nei prossimi giorni dato che il natale si avvicina e questo secondo me è anche un ottimo metodo per festeggiare il natale insieme fatemi quindi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e ci vediamo domani con un nuovo video ciao